Siamo alla palestra Rebola di Stresa, siamo venuti a trovare le ragazze del CSI Baveno, squadra open, c'è il mister, ci sono le ragazze che stanno facendo le cose in grande perché hanno vinto il titolo interprovinciale, il titolo regionale e adesso stanno lottando per qualcosa di importante. Silvia Fizzotti, ciao, come sta andando sta stagione? Direi molto bene, abbiamo praticamente vinto tutte le partite a parte una sola sconfitta dall'inizio dell'anno e quindi siamo molto contenti di come sta andando. Sta andando bene e poi mi pare di capire che c'è un gruppo veramente formidabile, siete molto unite. Sì, sia in campo sia fuori dal campo, siamo veramente un bel gruppo, siamo contenti. C'è da dire che questo prolungarsi della stagione CSI fa perdere tempo a una nota beecher come Silvia Tognettino, scherzo Silvia. Tu sei un punto di forza della squadra perché hai giocato anche in categorie regionali, vedo che sei contenta, stai sorridendo, quindi bene così. Sì, sì. È stato bellissimo partecipare a questo campionato insieme alle mie compagne, alcune mie ex compagne e puntiamo sempre più in alto. Adesso faremo un altro capitolo interregionale contro la Lombardia e si vedrà. Senti, ma quando sei arrivata pensavi di poter arrivare, con la tua esperienza, con le tue capacità, di poter portare la squadra così avanti? Ma, no, non mi aspettavo niente sinceramente. Volevo divertirmi, volevo tornare a giocare perché dopo quattro anni e mezzo che non toccavo il campo indoor, ero solo contenta di giocare. Come è andata è sempre stato positivo. Quindi ti piacerebbe continuare questa esperienza col Baveno? Certo, certo. Chi invece è una sportiva a 360 gradi, Bob, Omegna, Vega, adesso Baveno, Eleonora Guelpa, tu sei un po', come posso dire, non dico la nonna perché non è bello dire così e non mi sembra neanche il caso, la zia ma anche la ragazza d'esperienza, perché comunque ci sono tante giocatrici, tanti palloni cominciano a girare, sono tante giocatrici giovani, tu gli spieghi come si fa, se vogliamo. Ma, no, a livello pallavolistico diciamo di no, anzi, sto imparando anche tantissimo. Magari a livello di sprint, adrenalina e carattere, un po', sì, mi piace tirare su me stessa e le mie compagne, quello è vero.